Cari amiche e cari amici, continuiamo con la lettura delle lezioni di Vattimo su Nice. Buon ascolto. Una delle pagine più significative di un'opera di Nice intitolata Il crepuscolo degli idoli porta come titolo Come il mondo vero finì per diventare favola. Il mondo vero è scritto tra virgolette. È una ricostruzione della storia della filosofia occidentale, da Platone fino ai positivisti, proprio attraverso degli slogan. Come si sa, Platone pensava che il mondo vero fosse quello delle idee, cioè dell'essenza universale delle cose che sta al di là, al di sopra del cielo, nell'iperuraneo. Il cristianesimo, dice Nice, ci ha promesso il mondo vero per l'al di là dopo la vita. E se stiamo buoni, quindi andiamo in paradiso, del mondo delle idee platoniche, vediamo Dio. Ma gira gira, lunga storia, alla fine i positivisti ci hanno fatto capire che il mondo vero è l'insieme delle composizioni scientifiche accertate attraverso l'esperimento. Ma lì questo mondo vero finisce per essere quello che è prodotto nel laboratorio dello scienziato attraverso degli schemi, delle strutture e così via, ma che non ha nessuna verità di tipo trascendente in qualche modo. È una stabilizzazione della nostra esperienza attraverso la matematica, la ripetizione dell'esperimento e così via. Dunque, il mondo vero è diventato favola. In questo modo però, conclude Nice, anche la favola è stata eliminata perché noi abbiamo sempre chiamato favola ciò che si contrappone al mondo vero. Ma se il mondo vero non c'è più, non c'è più neanche la favola. Non è che non ci sia più niente, questo poi bisogna vederlo, ma non c'è certamente più l'idea che ciò che noi conosciamo è soltanto menzogna, è soltanto rappresentazione, è soltanto favola. È tutto quello di cui disponiamo. Ecco, una delle tesi più famose di Nice, anche più famigerate, più tristemente famose vogliamo dire, è l'annuncio della morte di Dio. Dio è morto. Questo è un discorso che viene messo in bocca all'uomo folle, nello Zaratustra, in altre opere di Nice, e ci si domanda che cosa vuol dire Dio è morto, perché naturalmente la prima idea che viene in mente in qualche modo non infundata è che Nice, essendo figlio di un pastore protestante, e quindi, ecco, questo spiega anche il fatto che il padre fosse protestante, che lui diventa anticristiano, vabbè, però che fosse figlio di un pastore, cresciuto in un ambiente di mamma credente, sorella bigotta, almeno inizialmente, e avesse voglia di rivoltarsi, questo si può immaginare, e che però, appunto, l'idea della morte di Dio gli venisse dal Vangelo, come moltissime altre stilemi anche, soprattutto in Così, parlò Zaratustra, una storia di un profeta che predica dei discorsi, e beh, qui ci sono delle chiare analogie, e a volte anche una parodia, secondo alcuni, del Vangelo. Però, nella filosofia di Nice, la morte di Dio significa qualcosa di più, che è semplicemente una ripresa, insomma, non è la morte di Cristo, letteralmente. È il fatto che Dio è morto, scrive Nice, ucciso dai suoi fedeli, per amor suo. Come vedete, anche qui, si potrebbe benissimo vedere una remota eco di concetti evangelici, e almeno l'amore qui c'entra. Nel caso del Vangelo, Gesù, ad esempio, si lascia crocifiggere per l'amore dell'umanità, e qui sono i fedeli di Dio che uccidono Dio per amore suo. Ma che cosa può significare, insomma, esattamente tutto questo? Per Nice significa che Dio è una formazione, come si può dire, mentale. Ecco, Dio di cui lui parla, perché lì si tratta poi di vedere, insomma, varie cose. Ecco, il Dio di cui lui parla è il Dio in cui hanno creduto i popoli primitivi per molti anni, per molti secoli o meglio, da cui si sono ritenuti dipendere, costruendo così una società in qualche modo ordinata. Quasi tutte le grandi filosofie della storia della nostra cultura occidentale, compresa Vico, ad esempio, quando parla delle questioni della selva primitiva, ecco, immaginano che il primo modo di organizzare una società non sia stato quello di mettersi d'accordo, di stare insieme, ma di credere in una divinità. La società umana, secondo Nietzsche, ma secondo anche altri filosofi, filosofi della storia, della nostra tradizione, nasce quando si comincia a credere in un essere superiore che si manifesta come potente attraverso degli effetti, degli eventi naturali che non possiamo dominare. Allora, ecco, il fulmine, il carattere di Giove, per esempio, non nella mitologia greca. Dio è, inizialmente, nelle culture primitive, il signore degli eventi naturali che ci minacciano anche, ci condizionano, e da cui la nostra vita dipende, perché se il sole non sorgesse tutte le mattine, noi andremo veramente a ramengo. E questo fa sì che un primo modo di organizzare la società, di organizzarsi dell'uomo al mondo, sia quello di tributare un culto a questa divinità e di sentirsi obbligato nei suoi confronti a dei comportamenti non in contraddizione, non selvatici, a seconda della sua volontà. Difficile dire perché a un certo punto gli antropologi vanno una spiegazione per tutte le cose, anche Nietzsche suppesioneva che ci fosse, difficile dire perché a un certo punto dovendo tributare un culto a Dio si costruisca anche la società. Però, nei filosofi come Nietzsche e negli antropologi questo va di pari passo. E quando ci si sottomette a una potenza superiore di cui eventualmente i poteri terreni sono rappresentati anche emissari autorizzati da lui, eccetera, che un po' alla volta si costruisce la società. Quindi, alla base della nostra vita sociale c'è proprio un atto di fede in un'entità superiore da cui un certo ordine della natura, del mondo, un ordine morale dipende. E naturalmente, ripeto, qui le spiegazioni degli antropologi, degli psicanalisti, della religione primitiva sono tantissime. Ma Nietzsche le suppone valide questa idea che la società umana si costruisce sulla base di una credenza in un essere superiore a cui si tributa un culto e che sanziona in qualche modo i nostri domini sociali nei confronti degli altri. Da questa credenza in Dio dipende anche in fondo la credenza nella razionalità del mondo per cui possiamo, come dire, costruire una scienza esatta sulla costanza degli eventi naturali e sulla base di questa scienza inventare delle tecniche ecco scienza tecnica ordine sociale dipendono dunque in Nietzsche inizialmente perlomeno dalla fede nell'esistenza di un essere superiore che da un lato garantisce la costanza degli eventi naturali e quindi ci permette di stabilire delle leggi scientifiche in qualche modo a cui appunto gli strumenti della vita eccetera dall'altro che sanziona moralmente i nostri comportamenti e quindi ci mette in una condizione di reciproco rispetto perlomeno di una certa per esempio mantenere le promesse è fondamentale nella vita sociale mantenere le promesse il giuramento ancora oggi è qualche cosa che si fa davanti a Dio nei tribunali adesso fino a qualche tempo fa insomma si giurava sulla Bibbia ancora quando si vede i film americani adesso con avvocati i tribunali c'è la Bibbia ci sono questi giuramenti ecco dunque il mondo razionale che noi chiamiamo moderno è quello che ci distingue dalla vita primitiva selvatica nella selva homo homini lupus eccetera eccetera è proprio questo insieme di razionalizzazione e stabilizzazione della società organizzazione scientifica tecnica del mondo e questo dipende da Dio ma allora perché i fedeli hanno ucciso Dio perché tra gli ordini tra i comandi che Dio dà all'uomo c'è anche il comando di non mentire e a un certo punto secondo Nietzsche l'umanità si accorge che anche Dio almeno questo Dio qui che garantisce l'ordine del mondo sanziona i comportamenti che stabilizza la società e i saperi è anche lui una menzogna accorgendosi che è una menzogna non gli si crede più ma non gli si crede più per amor suo in realtà cioè per ubbidire a Dio che comanda di non mentire perché se no si diventa ade noi abbiamo un detto grazie a Dio sono adeo è un paradosso ovviamente ma che tutto sommato è un paradosso fino a un certo punto in ogni caso come mai a un certo momento questa società che si è costruita sulla base della credenza in un Dio scopre che Dio è una menzogna perché è più sicura perché non ha più bisogno di dire una preghiera quando avverriva un temporale costruisce un parafulmine tutt'al più perché non deve più garantirsi con delle formule magiche con dei sacrifici animali o anche devoti non deve più garantirsi l'assistenza di Dio per difendersi dalla natura o dagli altri uomini in una società che ormai è ordinata c'è la polizia ci sono i tribunali c'è tutta un'organizzazione sociale il Dio che muore è tuttavia per Nice il Dio che Paschal il grande pensatore cattolico del Seicento francese avrebbe chiamato il Dio dei filosofi e degli scienziati e che lui distingueva dal Dio di Abramo e di Sacco e di Giacobbe Nice non era così sicuro di questa distinzione quindi non possiamo attribuirgli la fede di Paschal ma certo lui scrive esplicitamente talvolta che il Dio che è negato è il Dio morale e naturalmente non è che sia negato il Dio morale a favore di un Dio immorale che si ubriaca tutte le sere come alcuni antichi dei il Dio morale che è negato e che muore è il Dio come garante supereno dell'ordine dell'universo questo Dio qui secondo Nice non ha più senso non ha più senso è servito per darsi una struttura vivibile nella società nell'organizzazione sociale nella mentalità nella psicologia nell'etica quanto ancora noi quando violiamo delle norme ci sentiamo in colpa non certo davanti a qualcuno davanti a un tribunale però ci sentiamo in colpa sì certo davanti alla nostra coscienza ma nella nostra coscienza spesso continuiamo a pensare che parli la voce di Dio ebbene secondo Nice quanto più l'umanità si è rassicurata si è organizzata si è data una sopravvivenza tecnologica scientifica psicologica e sociale tantomeno è necessario Dio ecco ora è questo crea il problema di sapere se Nice potesse anche credere invece nel Dio cristiano ad esempio perché ci sono stati fiori di filosofi credenti che hanno distinto il Dio della Bibbia con il Dio della visione naturale del mondo sia del Dio delle religioni naturali primitive le superstizioni e così via sia comunque del Dio della scienza dell'ordine supremo dell'universo il Logos il Dio roggiaio quello che ha costruito tutto per bene e poi non può più fare non può più tirare un fiato perché naturalmente non può contraddirsi e quindi tutti i miracoli negati da parte degli scienziati il pensiero illuminista e così via ecco insomma non è sostenibile sulla base dei testi che Nice pensasse a una differenza di questo genere però è interessante insistere sul fatto che la sua tesi non è che Dio non esiste questo è un errore ma piuttosto che Dio è morto e dire che Dio è morto è coerente con tutto il resto del pensiero di Nice anche e soprattutto in questo senso che Nice non si azzarda a pronunciare una enunciazione teorica sulla non esistenza di Dio sempre in relazione alla sua idea che non si può pretendere di conoscere una verità ultima del reale e quindi dire che Dio non esiste significherebbe affermare una struttura della realtà ci sono le cose c'è il mondo ci sono le foreste c'è il fulmine ma non c'è Dio ecco ora Nice come credo abbiamo imparato da queste conversazioni non può dire una cosa di questo genere non può enunciare una proposizione descrittiva della realtà che Dio sia morto dunque ha anche questo senso nel suo pensiero che come dire non possiamo nemmeno dire che non esiste perché se dicessimo che non esiste chiameremo Dio quella struttura della realtà che esclude questo Dio di cui diciamo che non esiste e chiameremo Dio esattamente quella struttura metafisica del reale ora questo è un altro elemento dell'importanza che ha Nice sul pensiero contemporaneo molti atei di oggi sono ancora degli atei metafisici cioè sono ancora degli atei che credono di poter dire che siccome per esempio Dio non si vede non si tocca non si pesa non è oggetto della fisica non c'è ma Nice li chiamerebbe ancora dei turpi dogmatici eh degli irragionevoli dogmatici diciamo perché continuano a credere di poter descrivere il mondo questa volta senza Dio ma non è vero la morte di Dio è anche il divenire favola del mondo la fine del concetto di realtà fisso stabile definitivo in favore e qui si tratterà poi di capire che cos'altro dice Nice ma in favore di un'altra visione del mondo che fa a meno di tutto questa idea del fondamento ultimo tra le idee scandalose di Nice si capisce come si vede anche dalla storia dei settimanali delle trasmissioni televisive quanto più c'è scandalo tanto più c'è popolarità no? ecco e questo forse è espresa anche la popolarità perseverante persistente di Nice ecco oltre alla morte di Dio tra le cose scandalose c'è quella del oltre uomo per tanti anni si è detto super uomo oltre uomo e ho proposto questa traduzione dell'oltre uomo del termine tedesco urbermensch perché super uomo ci fa venire in mente superman ora Nice intanto non aveva assolutamente in mente questi eroi dei fumetti ma soprattutto non predicava una forma di umanità superumistica del tipo di muscoli più forti agilità maggiore capacità di comprendere di agire più velocemente quello che noi chiameremo un super uomo appunto ma supponeva immaginava progettava una forma di umanità che fosse oltre tutto questo oltre uomo che fosse una novità non solo perché potenziava le nostre potenze i nostri poteri naturali ma che fosse al di là dell'umano così come è stato fino ora e insieme a quell'idea di super uomo nelle opere di Nice emerge l'uomo finora dell'uomo fino ad adesso questo oltre uomo dovrebbe essere una forma di uomo al di là di come è stato l'uomo fino adesso dunque oltre uomo l'idea dell'oltre uomo accompagna quella della morte di Dio da qualche parte in queste pagine sempre un po' esaltate sull'oltre uomo Nice scrive anche che ora che Dio è morto vogliamo che viva l'oltre uomo dunque ma anche qui che cosa vuol dire se noi dobbiamo immaginare il super uomo l'oltre uomo come semplicemente una personalità straordinaria come un duce un führer un grande condottiero un napoleone ma chi diavolo potrebbe essere che cosa potrebbe essere l'oltre uomo ecco leggendo Nice ci si fa l'idea che l'oltre uomo sia l'uomo capace di vivere il mondo dove Dio è morto e questa è già una bella conquista perché ci vuole già un bello stomaco ci vuole già un bel coraggio perché in realtà il mondo dove Dio è morto sembra diventato un mondo disumano e come possiamo immaginare una morale senza una sanzione sovrannaturale o un ordine sociale senza che parli in nome di Dio senza che faccia giurare sulla Bibbia nei tribunali e così via ebbene per capire l'idea nicciana dell'oltre uomo bisogna partire proprio da qui quindi niente bestia bionda come lui ha scritto qualche volta che è diventata poi un modo di leggere Nietzsche dal punto di vista nazista la bestia bionda poi diventava l'ariano alto biondo il modello tedesco e di lì naturalmente via tutti no gli ebrei gli zingari questo non era però assolutamente nell'idea di Nietzsche dell'oltre uomo c'era sicuramente nell'idea dell'oltre uomo anche una certa esaltazione della capacità di conflitto di lotta cioè Nietzsche è sempre stato il nemico di una società troppo addormentata ecco questo sì quindi lo potremmo in qualche senso avvicinare a un ideologo del liberalismo per così dire cioè di una società dinamica in cui ci si afferma anche lottando contro gli altri si compete no e oggi noi possiamo benissimo accettare questa idea supponendo anche di stabilire delle condizioni ferre delle condizioni giuste ecco nella competizione ma certamente l'oltre uomo non era la bestia bionda non era il super uomo legato alla razza eletta dei nazisti non era nulla di tutto questo era un uomo capace di vivere in un mondo senza più orizzonti definitivi e fissi quando il detto che si su cui si ironizza sempre anche certi scrittori italiani come Arbasino signora mia non c'è più religione ecco quando ripetiamo questo detto con ironia intendiamo proprio in qualche modo evocare la situazione magari un po' banalizzata in cui si trova l'oltre uomo nicciano e se non c'è più religione sembra che non ci sia più niente Dostoevsky disse se Dio è morto tutto è permesso non è poi così vero intanto il Dio che è morto è solo il Dio garante dell'ordine dell'universo e non è detto che sia morto qualunque Dio anzi Nice scrive anche ora che Dio è morto vogliamo che vivano molti dei che vuol dire forse noi dobbiamo dare in qualche modo un'interpretazione altrimenti ci rifaremo a Venere Giunone no no vogliamo che vivano molti dei attualizzate lettura che vogliamo vivere in un mondo plirale in un mondo di multicultura in un mondo dove non ci sono solo i cristiani ma anche ad esempio i musulmani o anche i hindui buddisti e oggi capita sempre più spesso questo vivere in questo mondo non è tanto facile come possiamo vedere da quello che sta succedendo anche in politica tante volte c'è chi dice ma come dovremmo obbligare i musulmani a studiare la religione cristiana perché in questo modo capiscono cosa facciamo noi sì vabbè però noi per capire loro dovremmo studiare la religione musulmana non so insomma ci sono dei problemi di convivenza di culture e di popoli di religioni che forse noi possiamo studiare sotto questo profilo della vita di molti dei così in un mondo dove ci sono molti dei è possibile vivere umanamente e questo è il punto perché questo è un altro tema nicciano su cui per noi è importante oggi riflettere molto importante perché in un mondo dove ci sono molti dei ossia molte religioni diverse culture diversi sistemi etici e così via diventa sovrumano il compito di vivere per esempio senza nevrosi la reazione più immediata a un mondo senza orizzonti fissi sembra essere quella del ritorno nelle comunità ristrette ma di questo argomento parleremo nel prossimo video bene cari amiche e cari amici per il momento è tutto un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo Cosmo